Ciao, sono Giuseppe Marano e sono un medico dentista, specialista in chirurgia odontostomatologica. Svolgo la mia libera professione a Roma. La sedazione cosciente è la più antica tecnica di anestesia mai utilizzata al mondo. Respiri una miscela costituita da ossigeno e protossido di azoto. Quanto ossigeno? Almeno il 30%. Tieni presente che nell'aria che stiamo respirando adesso ne è contenuto soltanto il 21%. La sedazione cosciente è un mio cavallo di battaglia, è un punto di forza proprio del mio studio. Come stai? Sei contento di essere lo giustista? Per legge, il protossido di azoto è un farmaco che può essere utilizzato soltanto dagli specialisti in anestesia e dagli odontoiatri per la propria pratica clinica quotidiana. No, assolutamente no! Si utilizza una mascherina da applicare sul naso e che ci permette di respirare questa miscela di ossigeno e protossido di azoto. All'inizio respirerai per due minuti soltanto ossigeno, per abituarti a respirare attraverso la mascherina e per pulire i tuoi polmoni. Dopodiché dovrà essere gradualmente trovata la quantità di protossido di azoto che farà effetto benefico sul tuo organismo. In genere ci vogliono 5-10 minuti la prima volta, ma soltanto 3-4 minuti nelle volte successive. La prima sensazione che potrebbe comparire durante una sedazione cosciente è un senso di formicolio all'estremità degli arti oppure attorno alle labbra. Poi ti sentirai estremamente rilassato, come quando hai bevuto quel bicchiere di vino che ti fa restare allegro. Assolutamente sì, perché sarai talmente rilassato che proprio ti potrai lasciare andare e magari potresti anche addormentarti. Al termine della seduta odontoiatrica, sotto effetto della sedazione cosciente con protossido di azoto, ti verrà fatto respirare per almeno 2 minuti soltanto ossigeno pur al 100%. Così facendo verrà allontanato tutto quanto il protossido di azoto dal tuo organismo e quindi potrai tornare a tutte le tue attività abitudinarie, così come guidare la macchina. Certamente non esistono limiti di età per la sedazione cosciente con protossido di azoto. La possiamo utilizzare con tranquillità dal bambino più piccolo fino a quello più grande. Certamente non esistono limiti di età all'utilizzo della sedazione cosciente con protossido di azoto. Anzi, spesso gli anziani sono portatori di patologie che potrebbero trovare beneficio dell'utilizzo della sedazione con protossido di azoto. Faccio un esempio. Cardiopatie piuttosto che ipertensione. Sicuramente le nostre sedute diventeranno più rilassanti. In letteratura non sono mai stati descritti casi di allergia, reazioni allergiche al gas protossido di azoto. La sedazione cosciente non può sostituire l'anestetico locale. Per poterlo sostituire dovremmo somministrare il 100% di protossido di azoto, ma la cosa sarebbe incompatibile con la vita. Quindi sempre associazione tra sedazione cosciente e anestetico locale. In realtà non ci sono delle indicazioni in tal senso. Quello che consigliamo è di evitare dei pasti particolarmente pesanti, particolarmente grassi, magari dei fritti, oppure cibi troppo liquidi, che so, il latte la mattina ai bambini per colazione. Esistono soltanto due controindicazioni assolute all'utilizzo della sedazione con protossido di azoto, che sono la sostituzione del vitreo dell'occhio e la sostituzione del timpano con un timpano artificiale. Esistono poi delle controindicazioni relative, che sono rappresentate da alcune patologie dei polmoni, dalla impossibilità a respirare col naso, dall'utilizzo o meglio dall'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol. In realtà tutti possono essere sottoposti a sedazione cosciente con protossido di azoto. Fanno eccezione soltanto le persone sottoposte a sostituzione del vitreo, sostituzione del timpano con un timpano artificiale e le donne nei primi tre mesi di gravidanza.